Giovanni Senzaterra, un re controverso. Infanzia e giovinezza. Giovanni Plantageneto, conosciuto come Giovanni Senzaterra, nacque a Oxford il 24 dicembre 1166. Era il figlio minore di Enrico II d'Inghilterra e Eleonora d'Aquitania. Il soprannome Senzaterra deriva dal fatto che, essendo l'ultimo dei fratelli, non ricevette un appannaggio feudale come gli altri. Ascesa al trono Nel 1199, Giovanni succedette al fratello Riccardo Cuor di Leone come re d'Inghilterra. Il suo regno fu segnato da conflitti con la nobiltà e con il re di Francia, Filippo II Augusto. Conflitti con la nobiltà. Giovanni era un sovrano autocratico che pretendeva obbedienza assoluta dai suoi baroni. La sua politica fiscale oppressiva e la sua gestione dei territori francesi innescarono una rivolta della nobiltà nel 1215. I baroni costrinsero Giovanni a sottoscrivere la Magna Carta, un documento che limitava il potere del re e garantiva alcuni diritti ai nobili. Conflitti con la Francia. Giovanni perse la maggior parte dei possedimenti francesi in una guerra contro Filippo II Augusto. La sconfitta nella battaglia di Bovin nel 1214 segnò la fine del dominio inglese in Francia. Morte e eredità. Giovanni senza terra morì il 19 ottobre 1216. Il suo regno è considerato uno dei più turbolenti della storia inglese. La sua figura è stata spesso dipinta come quella di un tiranno crudele inetto. Tuttavia, alcuni storici lo considerano un sovrano capace che ha cercato di rafforzare il potere reggio in un periodo di grande instabilità. Eredità. La Magna Carta, firmata da Giovanni senza terra, è considerata uno dei documenti più importanti della storia inglese. Essa ha contribuito a stabilire il principio che il re è soggetto alla legge e ha posto le basi per lo sviluppo della democrazia inglese. Nonostante la sua reputazione di tiranno, Giovanni senza terra era un abile amministratore e finanziere. Durante il suo regno, introdusse diverse riforme volte a migliorare l'efficienza del governo e ad aumentare le entrate fiscali. Ad esempio, istituì un sistema di riscossione delle tasse più centralizzato e codificò le leggi del regno. Inoltre, promosse lo sviluppo del commercio e dell'industria. Amante della cultura e delle arti. Giovanni senza terra era un amante della cultura e delle arti. Era un mecenate di poeti e scrittori, tra cui Jeffrey Chaucer. Inoltre, commissionò la costruzione di diverse opere architettoniche, tra cui il castello di Windsor. Matrimoni e figli. Giovanni senza terra si sposò due volte. La sua prima moglie fu Isabella di Gloucester, dalla quale non ebbe figli. La sua seconda moglie fu Isabella d'Anguleme, dalla quale ebbe cinque figli, Enrico III, che gli succedette al trono. Riccardo di Cornovaglia. Giovanna del Galles. Isabella d'Inghilterra. Eleonora Plantageneta. Padre di Enrico III. Giovanni senza terra è stato il padre di Enrico III, che gli succedette al trono all'età di nove anni. Enrico III regnò per oltre cinquant'anni e fu un sovrano relativamente pacifico. Durante il suo regno, l'Inghilterra si riprese dalle guerre del regno di Giovanni e si consolidò come potenza europea. Conclusione. Giovanni senza terra è una figura complessa e controversa. Era un sovrano capace e abile amministratore, ma era anche un uomo crudele e autocratico. Il suo regno è stato segnato da conflitti con la nobiltà e con il re di Francia. Tuttavia, la sua eredità include la Magna Carta, un documento fondamentale per lo sviluppo della democrazia inglese.